antonella fiordelisi rivela di essere completamente cambiata dopo pechino express che parte domani 7 marzo su sky ha partecipato in coppia con stefania bernal in questa edizione i concorrenti si muoveranno fra vietnam laos e sri lanka ho vissuto sempre in una campana di vetro non ero mai andata fuori dall'europa confessa a chi la 25 n ex schermitrice ho vissuto sempre in una campana di vetro non ero mai andata fuori dall'europa antonella fiordelisi rivela di essere completamente cambiata dopo pechino express l'influencer che sogna la conduzione in tv si dice diversa al gfv fa afferma di aver dato forse il peggio di sé e cresciuta e pechino express le ha dato una grande mano ho imparato molto e un'esperienza forte che mi ha lasciato il segno fin da subito mi ha fatto capire che l'essere umano in generale è incontentabile ho visto il mondo come funziona veramente e ho capito di aver vissuto sempre sotto una campana di vetro anche grazie alla mia famiglia non avevo mai toccato con mano la povertà prosegue antonella non ero mai andata fuori dall'europa ho iniziato ad apprezzare le piccole cose prima mi arrabbiavo se mi si rompeva un'unghia adesso capisco la fortuna che ho da quando sono tornata sono felice per qualunque cosa la ragazza da 1,5 milioni di follower non vuole diventare schiava dei li che così sottolinea da qui a 5 anni desidera diventare una presentatrice televisiva ed è single con edoardo donna maria ammette non è andata come speravamo ha avuto una storia con guglielmo vicario calciatore del tottenham durata due mesi ma pure questa conclusa la fiordelisi smentisce con ancora più forza il presunto flirt in passato con stefano de martino non sono mai stata con ragazzi fidanzati e non sono mai stata con stefano de martino infine la 25 n conclude magari in passato ho commesso degli errori di valutazione ma non voglio più quel tipo di popolarità vorrei che se si parla di me fosse per qualcosa che faccio il mio lavoro non dico di essere partita col piede sbagliato ma vorrei invertire la tendenza non ho mai fatto nulla di male e sono sempre stata corretta e c'è un tempo per tutto ma il mio per queste cose è finito grazie a tutti